prima della sfida del Luca Vallese il ricordo di Rocco Core figura storica nell'ambiente del penne lutto al braccio per la sua scomparsa i tifosi gli rendono omaggio l'ultimo turno del 2018 mette l'una di fronte all'altra Alba Adriatica e penne Kevin Passamonti tra i rossoverdi afflitto da noie muscolari parte dalla panchina l'equilibrio viene infranto dal palo colpito da Andrea Capocasa quasi impercettibile la deviazione di Cristian D'Amico ma tanto basta per evitare uno svantaggio solo rimandato calcio di punizione dal limite fronte sinistro offensivo Mattia Fabrizi pescato col radar da Lorenzo Emili 1 a 0 si sblocca l'incontro il gol del vantaggio degli albenzi nell'inconsueta tenuta grigia recalama il fuorigioco la squadra di Zotti di Ruocco ha la chance di pareggiare subito fuori di un soffio che errore dell'esterno d'attacco graziato Petrini nella ripresa la frustata di testa di Inshambè la risposta di D'Amico immagini e montaggio fidate a Mario Giacchetta Petrini a neutralizzare l'incursione di Rosini dalla sinistra quindi Miani che incorna D'Amico che gli sbarra la strada nel segmento centrale del secondo tempo la partita è apertissima squadre tagliate in due tronconi di Ruocco che trova ancora l'opposizione di Lorenzo Petrini arriva il 2 a 0 dell'albadriatica da rivedere però nel frangente la difesa vestina e un regalo impacchettato e consegnato con due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia Miani che ringrazia sale a quota 9 l'attaccante che chiude la sfida mette il sigillo Miani che non infierisce in pieno recupero cacciatore non accorcia Petrini provvidenziale l'alba pone fine al filotto di risultati utili consecutivi del penne continua a volare vince 2 a 0 e aggancia il capistrello al terzo posto la partita di oggi avete retto anche bene forse nella prima mezz'ora poi ci sono state un po' di occasioni per l'albadriatica e alla fine poi il risultato è arrivato anche sullo 2 a 0 perché vi siete un po' sfilacciati poi nella ripresa sì va bene siamo partiti non siamo partiti al massimo con le altre gare e se eravamo un po' sulle gambe e poi loro sono stati bravi hanno approfittato subito il nostro momento di indecisione poi abbiamo fatto un grosso secondo tempo dal mio punto di vista abbiamo diverse occasioni purtroppo anche nel primo di ruocco davanti al portiere a tu per tu non siamo riuscito a pareggere la partita poi alla fine siamo un po' diciamo sbilanciati in avanti e loro hanno fatto il 2 a 0 allora analizziamo questa partita avete condotto bene questa gara è arrivata una vittoria per 2 a 0 allora non ho risultato utile consecutivo tra l'altro si ragazzi hanno disputato una grandissima partita abbiamo sofferto come hanno detto loro un po all'inizio del secondo tempo dove si sono dimostrati molto molto pericolosi e noi ecco sul campo abbiamo dimostrato nonostante la giovane età che i ragazzi ecco hanno dato tutto ed è venuta questa vittoria